Amazon ha contribuito ad innalzare il livello di qualità atteso dai clienti nel servizio e nella relazione, non soltanto nel mondo online. Quali sono le novità del vostro modello e quali sono le prossime frontiere? Dovendo riassumere, ci sono alcuni principi che noi cerchiamo di applicare nella relazione con i nostri clienti. Un principio è cerchiamo di fare ai clienti delle promesse ambiziose e di mantenerle. Un secondo principio è per costruire questo rapporto di fiducia di lungo periodo vogliamo fare investimenti di lungo periodo che talvolta vanno a scapito del risultato economico nel breve periodo. Un terzo principio è condividiamo con il cliente le cose buone e le cose cattive per aiutarlo a prendere delle decisioni pienamente informate. Quali sono i parametri più importanti con cui monitorate la soddisfazione dei clienti? Tutto parte da capire che cosa vuole il cliente e bisogna avere molta chiarezza su quali sono le cose che sono importanti per il cliente. In Amazon noi diciamo che in ordine di importanza ciò che conta è l'ampiezza della scelta, il prezzo, la possibilità di ricevere i prodotti ordinati in tempi molto rapidi e in generale il tema della comodità. Quindi attorno a ciascuno di questi fattori di scelta importanti per i clienti abbiamo costruito tutta una serie di metriche che dicono a noi stessi in primo luogo quanto stiamo facendo bene su queste dimensioni. Quindi prendiamone uno, parliamo di comodità e di servizio al cliente. Noi ogni volta che il cliente effettua un ordine offriamo una promessa di consegna, quindi noi ci misuriamo su quanto rispettiamo questa promessa di consegna. Oppure quando il cliente ci contatta perché ci pone un problema, ci pone una domanda, vogliamo rispondergli rapidamente e quindi abbiamo dei livelli di servizio sulla velocità di risposta, al tempo stesso vogliamo anche accertarci che siamo capaci di risolvere il suo problema e quindi al termine di ciascun contatto con il cliente mandiamo una comunicazione al cliente chiedendogli ho risolto il tuo problema, sì o no e ci misuriamo sulla percentuale di sì. Quindi ogni fattore di scelta del cliente ha tutta una serie di metriche dietro e su ciascuna metrica misuriamo quanto stiamo facendo bene. È in questo modo che riuscite a costruire un rapporto forte di fiducia con il cliente? Il rapporto con il cliente viene costruito sulle piccole cose. Facciamo un esempio, se io cliente faccio un preordine su un prodotto che ancora deve uscire e lo ordino ad un certo prezzo nel momento in cui effettuo l'ordine, se da quel momento in cui ho effettuato l'ordine, al momento in cui il prodotto esce sul mercato il prezzo si abbassa, Amazon riconosce al cliente automaticamente il prezzo più basso. Queste sono piccole cose che però il cliente nota e che contribuiscono a costruire questo rapporto di fiducia. Alla base c'è il fatto che il cliente sa che questo sito, questa azienda da cui lui compra è un soggetto di cui si può fidare e questa consapevolezza è quanto di più importante ci sia nel costruire un rapporto tra un'azienda e un cliente. Le banche stanno crescendo nei servizi digitali e nella gestione della relazione con i clienti. A suo giudizio quali sono gli aspetti del modello Amazon che potrebbero essere efficaci anche nel settore bancario e finanziario per migliorare la soddisfazione dei clienti? I principi che annunciavo all'inizio valgono per Amazon come valgono per qualunque altra azienda, quindi il tema a mio avviso è come le banche riescono a fare leva esattamente su questi fattori, abbiamo parlato dell'aiutare il cliente a fare delle scelte informate ed è chiaro che le banche hanno una responsabilità molto forte nell'aiutare il cliente a scegliere come allocare il suo risparmio oppure qual è il prodotto di credito che meglio risponde all'esigenza di comprare casa. Questo credo che sia un filone dove le banche hanno la possibilità di fare sempre meglio, quindi com'è che faccio a offrire al cliente un prodotto di investimento che non gli dia una brutta sorpresa? È chiaro che il mercato azionario può andare bene e può andare male e il cliente deve essere consapevole che si sta prendendo quel rischio. Quello che è importante è che nel momento in cui il cliente sottoscrive un contratto abbia piena consapevolezza delle opportunità che ha e anche dei rischi che sta correndo. Se sottoscrive un mutuo a tasso variabile deve essere pienamente consapevole in modo molto pratico di cosa potrebbe succedere se i tassi di interesse si innalzassero. Quindi le banche devono e non chiaramente perché lo impone la normativa sulla trasparenza ma perché diventa una priorità dell'istituto aiutare davvero il cliente a fare scelte informate e talvolta prendersi anche la responsabilità per un cattivo servizio che hanno fornito al cliente. Quanta importanza ricoprono i sistemi di pagamento offerti al cliente nella realizzazione di una customer journey d'eccellenza. Oltre alle carte state pensando di sperimentare anche servizi di pagamento digitali alternativi per esempio MyBank o i sistemi peer-to-peer? In questo momento io non sono un esperto nei sistemi di pagamento e abbiamo un gruppo di persone che centralmente decide un po' quali sono tutte le funzionalità di pagamento che noi dobbiamo offrire. Quello che noi stiamo facendo in questo momento è offrire il pagamento tramite carta di credito e quindi non abbiamo altre diciamo altre forme di pagamento sul sito che non siano la carta di credito e cerchiamo di rendere l'esperienza di pagamento al cliente il più semplice e senza frizione possibile. Quindi l'estremo di semplicità è il pagamento one click. Io mi voglio comprare un libro elettronico, premo un pulsante e in pochi secondi quel libro appare sul mio Kindle. però al tempo stesso siamo consapevoli che ci sono anche delle esigenze ulteriori del cliente per esempio il contante e quindi noi abbiamo consentito da qualche tempo a questa parte ai nostri clienti di acquistare in punti di vendita fisici dei crediti pagandoli con contante che poi possono essere utilizzati sul nostro sito. Quindi chi non avesse una carta di credito ha comunque la possibilità di fare acquisti su Amazon. Il vostro sistema di pagamento one click è molto veloce e semplice ma non è compatibile con alcune procedure di sicurezza. Avete registrato problemi in termini di frodi? No, per Amazon controlla la sua infrastruttura di sicurezza per fare in modo che il cliente sia assolutamente blindato in termini di rischio di frode. Quindi avendo un'infrastruttura molto solida a monte noi poi cerchiamo di rendere invece l'esperienza di acquisto molto semplice. Quindi cerchiamo di minimizzare il numero di passaggi che il cliente deve effettuare affinché possa passare dalla scelta del prodotto al pagamento, alla ricezione del prodotto a casa nel tempo più rapido possibile.